L'emergenza sociale nel quartiere sud di Catanzaro resta elevata. Recenti atti vandalici nel quartiere Pistoia, uno dei più degradati del capoluogo di regione, dimostrano quanto sia sottile la linea tra la volontà di cambiare registro e la pressione di chi un cambiamento proprio non lo vuole. Non si tratta infatti di semplici atti di vandalismo, quelli che si sono registrati in questi giorni, con l'obiettivo di mettere fuori uso un campetto di calcio e ciò che rappresenta in uno spazio ricreativo e di condivisione. Infatti, sembra possa trattarsi di una vera e propria intimidazione perpetrata da chi non vuole assolutamente che nel quartiere si possano trascorrere momenti sociali e sportivi condivisi. È forse questo il fine dei danni provocati al campetto di calcio della zona, dove ogni estate si organizzano tornei ed altre iniziative. Scoraggiare dunque tali manifestazioni potrebbe essere la vera ragione di simili episodi. In un quartiere che non riesce proprio ad emergere dalla propria condizione di degrado. Nei pressi del campetto, oggetto di vandalismo, c'è anche una targa in memoria di Paolo Borsellino, simbolo di legalità e giustizia. Un messaggio di civiltà istituzionale, che tuttavia sembra proprio essere fine a se stesso. La zona è infatti decisamente abbandonata, non curata. E appare evidente come siano le stesse istituzioni a lanciare un messaggio inverso rispetto a quella targa che ricorda Borsellino. Perché sembra che le stesse istituzioni abbiano dimenticato questo quartiere ed altri della zona sud della città, utile molto spesso solo in campagna elettorale. Tutto questo mentre il comune di Catanzaro tra un paio di giorni affronterà in consiglio l'approvazione della Safe City, l'installazione di telecamere per la tutela pubblica. Solo che questo investimento è pari a 23 milioni di euro. Se dovesse passare tale provvedimento, soprattutto con i tempi che corrono, si potrebbe dire che qualcuno potrà godere di filmati video ed osservare una città che pare proprio aver preso la direzione del decadimento. Se esiste la possibilità di investire 23 milioni di euro, forse sarebbe più utile utilizzarli in altro modo, magari riqualificando i quartieri della zona sud.